Sì, 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 signor K, hanno detto che gridava, hanno visto i lampeggianti, un'altra volta, questa volta a Milano, la polizia per le strade uccide, la polizia spara, la polizia manganella, un'altra volta, questa volta è toccato a Michele, per la strada, ok? E noi saremo per la strada, per ricordare che la sicurezza è sociale, e non quella degli sceritti, non quella dei manganelli e delle pistole, saremo in piazza e tutta la città deve essere in piazza con noi, per questa fiaccolata, 8 luglio, in piazza del Turchino, a Milano, alle ore 9, non potete mancare per dire che la sicurezza è sociale, le guardie le hanno uccise, la divisa le protegge, chi ci difende dalla legge?